...si consentissero di allocare... La notizia ha fatto scalpore e mandato su tutte le furie il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. 13 dirigenti della Napoli Servizi, azienda controllata in pieno dal comune, incaricata del decoro urbano, si sono aumentati gli stipendi di circa 5.000 euro l'ordi al mese, per un totale di 1.000.000,7 milioni di euro. Se poi si aggiunge che tutto è accaduto a gennaio 2011, in piena emergenza rifiuti durante l'amministrazione Iervolino, in tempo di crisi e di polemiche sui costi della politica, la vicenda ha avuto l'eco che meritava, tanto che il sindaco ha già annunciato l'azzeramento del Consiglio d'amministrazione. E di oggi però la notizia è che il caso Napoli Servizi potrebbe coinvolgere anche un extra budget di 3.500.000 euro stanziato per la vigilanza armata, un provvedimento che però non avrebbe mai ricevuto l'assenso del Consiglio Comunale. Sotto la lente degli ispettori di Palazzo San Giacomo anche una spesa di 100.000 euro per effettuare lavori ed ilizi nella sede del Forum delle Culture 2013. Tutta la documentazione relativa alla vicenda sarà trasferita alla magistratura contabile della Corte dei Conti.